Emanuele Nocciolini, il principale obiettivo di mercato del Teramo che ha tra le priorità quella di inserire prima possibile una prima punta che in organico in questo momento non ha più. Il centravanti in uscita dal Parma dopo essere rientrato dal prasseto a Renate contende a Zigoni il ruolo di acquisto per la prima linea. 32 anni, esperienze in categoria e anche qualche stagione non proprio ai livelli che gli sono consoni. Renate come detto ma anche San Benedettese e Ravenna una volta in doppia cifra proprio con il Ravenna nell'annata 2018-2019 è un contratto che scade a giugno del 2022. Quindi con ogni probabilità ci potrebbero essere presto colloqui tra giocatore e Parma per estendere il legame e poi dare la via libera all'eventuale prestito in bianco-rosso. A meno che il Teramo non voglia acquistarlo a titolo definitivo. Discorso simile per l'altro attaccante nel mirino del DS Musa ovvero Gianmarco Zigoni che a Venezia non rimarrà che nel 2021 si è diviso tra Novara, 19 presenze, due reti e Mantova, 17 presenze con presa quella nei play-off e una marcatura. Tra oggi e domani novità in vista sul fronte attaccante a pochi giorni dal debutto ufficiale di sabato in Coppa Italia contro il Monterosi. Chi arrivi Nocciolini o Zigoni o lo stesso Santaniello che dovrebbe andare via da Avellino sono giocatori da rivalutare in un contesto come quello di Teramo. Considerando che il diavolo è anche alla ricerca di due esterne di difesa che possono essere il cambio di Rillo a sinistra e Azi Osmanovic a destra e di due esterni d'attacco. Oggi arriva Manuele Malotti che sull'out destro formerà la coppia con K, dunque le attenzioni si spostano su giocatori che possano calcare il lato sinistro dell'affronte offensivo e costruire insieme alla punta che arriverà il tridente per Federico Guidi. Che vede Mungo in posizione di mezzala ma senza compiti fissi ovvero con la possibilità di svariare e andarsi a prendere spazi e pallone seguendo il proprio istinto più di quanto non abbia fatto finora. A centrocampo invece sarà caccia agli under a ragazzi di prospettiva che possano crescere seguendo Arrigoni sempre più capitano della squadra e lo stesso Mungo. C'è interesse per capire se questa che si apre può essere l'annata di Federico Viero qualità indiscutibili ma nelle due stagioni passate gli è mancato sempre qualcosa per fare il definitivo salto di qualità. Quello che ha fatto ad esempio Santoro andato a Perugia. Nella prima pre-season con Bruno Tedino i due avevano destato ottime impressioni ma mentre il siciliano ci ha messo poco per prendersi la scena per il 22enne Parmenz è stato un po' più complesso trovare lo spazio nell'undici titolare e questa può essere l'annata giusta per farlo.